salve a tutti ragazzi ancora una volta benvenuti su questo nuovo vlog oggi ragazzi vi vado a far vedere come scaricare la traduzione in italiano del gioco lupiro e installarla praticamente senza problemi sul vostro pc innanzitutto dove la troviamo allora la troviamo facendo una breve premessa prima di tutto ragazzi ho provato a contattare gli sviluppatori del gioco ma sono praticamente introvabili quindi non sono riuscito a contattarli perché l'unico indirizzo che praticamente sono rintracciabili è il loro social network di twitter quindi in pratica non vado a scrivere su twitter perché se io scrivo su twitter sulla pagina principale dove cacchio li trovo sviluppatori il primo coglione mi risponde e dice sono io mi dà un email io non posso sapere che è lui e quindi gli do la traduzione quello se la frega e va a fare quello che dovrei fare io insomma quindi non li ho trovati ho provato a contattare anche il loro produttore il loro distributore scusate e anche lì in pratica non mi hanno cagato quindi visto che succede questa cosa ragazzi io vi do la traduzione e la metto sul mio server discord così almeno uniamo un po' l'utile dilettevole e così vi chiedo gentilmente di magari entrare nel mio server discord e così magari ripopoliamo anche lì no per trovare il mio server discord cosa bisogna fare allora aprite la pagina youtube del mio canale per cercare il mio ricerca di youtube leon trip staccato ok e vi dà come primo risultato leon trip se lo mettete attaccato non fa assolutamente niente ci evita sempre come primo risultato questo loghetto ok cliccate sul loghetto e andate praticamente a visualizzare il canale non su creator please ok praticamente a visualizzare il canale aprite un video a caso qualsiasi ok anche mister prepper va bene che è l'ultimo adesso che ho fatto attualmente in questo va bene e andate qui praticamente no vedete qua sotto come si fa e fate mostra altro e qui sotto c'è il server disco andate a cliccare qua su discaricate disco se non ce l'avete e se in caso ce l'avete già vi collega direttamente alla pagina una volta che avete praticamente siete entrati nella pagina qua trovate con questa hashtag ok traduzione lupiro ci cliccate sopra e qui c'è il file basta cliccare su scarica ci cliccate su scarica e praticamente pochi mega insomma lo scaricate tranquillamente una volta che l'avete scaricato lo mostrate nella cartella ok e la trovate qui ok una volta che in questo archivio raro potete aprire e vedete che qui ci sarà cacchio no scusate poi vedrò risolve sto problema e qui ci sarà la traduzione che adesso vi faccio vedere come installarla una volta che avete scaricato il file andate nella cartella dove avete praticamente installato il gioco se l'avete scaricato da steam ovviamente dovrete andare sulla cartella di steam ora il percorso è diverso sicuramente dal vostro perché io tutti i giochi di steam li scarico gli ho detto di scaricarli sul volume d voi non ce li avrete lì ce li avrete su c qualcosa steam librari eccetera ok quindi voi andate a cercare su steam librari ok eccolo qua poi andate su steam maps andate sulla cartella common e andate a cercare il gioco lupiro una volta che avete cercato il gioco lupiro e andare ad aprire la cartella local in questa cartella vedrete i vari praticamente file delle lingue del gioco ok quindi inglese spagnolo francese tedesco giapponese coreano portoghese russo una volta che avete fatto questo non vi rimane altro che andare sulla cartella download che avete prima scaricato prendere potete anche fare estrai qui ok il sì 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 io ce l'ho già quindi mi dice di scriverlo copiate questo file quindi copialo ecco e andate praticamente a incollarlo qui vi dirà di sovrascriverlo ok sostituisci file nella destinazione fate sì e avviate adesso il gioco lupiro ok andate ad avviare voi sicuramente non avete bisogno di cliccarlo da qui ce l'avrete già sul vostro desktop basta che lo cliccate anche dal vostro desktop e partirà lupiro vi troverete in questa situazione qua così se l'avete avviato per la prima volta allora in pratica il gioco è tutto in inglese però avendo sovrascritto la lingua francese se noi clicchiamo sulla bandiera della francia vedrete che il gioco sarà tutto in italiano vi consiglio di mettere caratteri ad alta risoluzione per evitare che le scritte si vadano a sovrapporre l'uno con l'altra e ragazzi il gioco comunque potete vedere è tutto in italiano quindi statistiche eccetera vedete che abbiamo praticamente tutto ginnagio fattoria fonderia ok qua anche le descrizioni come potete vedere sono tutte in italiano quindi ragazzi questo è quanto io ho fatto una sezione dedicata apposta per il server discord sul quale se ci sono qualche errore contattatemi lì e io modificherò il file vi metterò il file aggiornato ho una sezione apposta dove praticamente potete postare degli screenshot così magari mi fate vedere con lo screenshot mi dite guarda che qui c'è un errore perché ovviamente io ho tradotto le varie stringhe però non posso sapere in quale contesto vengono visualizzate queste stringhe nel gioco cioè bisognerebbe praticamente giocarlo tutto come è anche probabile che ci siano degli errori di stringa cioè nel senso che non venga proprio visualizzata se viene visualizzata la stringa ma viene la scritta ermac scritta in maiuscolo ditemelo ragazzi che vado a risolvere perché praticamente c'è un errore sul codice del comando quindi praticamente questo è tutto ok comunque non ce ne dovrebbero essere e io per quello che ho potuto controllare non ce n'erano finora però come detto potrebbe capitare che ci sia un errore di questo tipo anche magari nelle late game cioè più avanti nel gioco quindi ragazzi l'ho preferito mettere su disco perché perché così almeno ragazzi ci troviamo tutti lì entrate nel server disco mi chiedo un favore restateci cioè non entrate scaricate il file poi bene andate cercate di restarci così mi fate un favore perché come detto non avendo non essendo riusciti a contattare gli sviluppatori o non essendo riuscito a contattare la casa di distribuzione io almeno c'è cerchiamo di trovarci tutti in questo server avrei anche voluto metterlo su telegram però comunque ragazzi avete telegram il link in descrizione sono anche di quello quindi per aumentare diciamo la nostra popolarità su questo canale facciamo così e anche in questo periodo magari che mi sembra un po perché non si può uscire non si può andare fuori non si può almeno ci troviamo qui facciamo un po di amicizia facciamo due chiacchiere ho sputato vabbè ragazzi va bene grazie insomma a tutti spero che di esservi stato d'aiuto noi ci vediamo magari al prossimo video e ragazzi però che vi sia utile questa cosa grazie a tutti dal trip ragazzi ci vediamo alla prossima ciao raga ciao 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 ciao